Dopo il grande successo dello scorso anno, torna InFit Bergamo. Siamo con Massimiliano Cappuccino, uno degli organizzatori di questo grande evento. Allora, come ci non introduce? Dopo lo scorso anno, diciamo che quest'anno abbiamo rivisitato un pochino il format dell'edizione. Si è voluto dare alla fiera un contesto e un connotato differente. Dalla partenza del nome, InFit, molto adiacente a quello che sarà poi, quello che troveremo all'interno della fiera. L'intento è quello di creare una kermesse di tre giorni, aperta veramente a tutti. Dal praticante, dall'atleta, all'istruttore che vuole formarsi all'interno della fiera e a chi oggi investe in questo settore, quindi all'imprenditore stesso e al manager. creando un filo conduttore di lezioni, di corsi di formazione, sia per gli istruttori che per i manager stessi. Questa è stata un pochino la linea che abbiamo voluto tracciare per creare la prima edizione di InFit Conversion presso Fiera di Bergamo.